Negli ultimi 50 anni la produzione agricola è aumentata di circa il 30% grazie al contributo diretto degli insetti impollinatori, ma l'Europa, quasi metà delle specie di insetti, è in grave declino e un terzo è in pericolo di estinzione a causa del cambiamento dell'habitat e dell'inquinamento ambientale. Il ripristino degli habitat naturali, una drastica riduzione degli input agrochimici e la riprogettazione agricola sono probabilmente i metodi più efficaci per evitare ulteriori diminuzioni o scomparse degli insetti impollinatori. Abbiamo intervistato la fondazione Zoom Torino che tramite un filone di ricerca si è occupata del tema. Il primo filone, siamo proprio nella biarea, diciamo il paradiso degli impollinatori, si chiama Bizum e il filone di tutela degli impollinatori finalizzato al ripristino dei servizi ecosistemici riqualificando anche le aree che intorno al parco sono presenti. Il progetto Bizum ha due anime, una piemontese dove stiamo appunto mappando gli impollinatori presenti, per quale motivo? Per poi andare a seminare le piante utili per quegli impollinatori, proprio per poter ripristinare i servizi ecosistemici fondamentali perché senza le api, gli impollinatori in generale ovviamente il servizio ecosistemico si interrompe e tutto l'ecosistema ovviamente va a rischio. Poi c'è anche l'anima africana, cosa vuol dire? La fondazione Zoom sta da un anno e mezzo lavorando in Botswana, sta svolgendo dei corsi di apicoltura ai locali al fine di trovare insieme a loro uno sviluppo sostenibile. Quindi perché l'apicoltura? Perché il miele può essere una fonte di reddito alternativa, può essere una fonte di cibo in più, consente di essere uno sviluppo sostenibile e quindi aiutare la comunità perché nell'aiutare le api per farle sopravvivere aumenta la produzione di miele, consente l'aumento del numero di api, di impollinare un maggior numero di fiori, e quindi aumenta la vegetazione e quindi si innesca un circolo virtuoso che aiuta anche la rigenerazione di un'area. Quindi questo per dimostrare come si può lavorare insieme, lo sviluppo economico può andare perfettamente di pari passo con uno sviluppo sostenibile e soprattutto collaborando con gli attori chiave, quindi con gli attori del territorio che sono quelli che in prima persona devono agire e creare appunto un meccanismo tale per cui sempre più persone, per rimanere in tema di api, quindi aumentare il numero di api nell'alveare, agiscano in modo pro natura.